Un nuovo capitolo della tormentata vicenda dalla piscina comunale è stato scritto ieri in consiglio comunale dove il neossessore allo sport Luca Zanacchi ha risposto all'ultima interrogazione della consigliera di minoranza Maria Vittoria Ceraso che chiedeva conto della situazione dopo il blocco estivo dell'impianto deciso dal sindaco per motivi di salute pubblica. Durante la seduta è emerso che a Sport Management saranno imputati i lavori per riparare la sala macchine della convertibile e il compenso dell'avvocato che ha rappresentato l'amministrazione in consiglio di Stato dopo l'avvio del contenzioso legale. Non solo, si è appreso che l'ultima tranche di contributo di circa 180 mila euro è stata congelata. Non è stata erogata in virtù del contenzioso del gestore con l'ispettorato del lavoro. In attesa del pronunciamento del TAR che dovrebbe avvenire il 9 ottobre, l'assessore ha garantito che le attività di controllo proseguiranno per garantire la salute dei cittadini. L'impianto resta aperto ma sotto tutela. A giorni poi dovrebbe tenersi un incontro convocato dal Comune alla presenza di Sport Management e di tutte le società sportive per la suddivisione delle aree d'acqua necessario l'avvio dei corsi.